Musica Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini. Oggi abbiamo come ospite Giorgio Bartolini, direttore di Confesercenti Pesaro Urbino. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rossini TV. Grazie per l'invito. Era bello, piacevole e doveroso. Come ormai sanno i nostri telespettatori, più volte abbiamo ospitato dei personaggi della Confesercenti locale a raccontarci cose del posto ma anche cose nazionali. Di questo si parla quando si parla di un'associazione di categoria così importante. Quello che forse fin'oggi ancora non avevamo sottolineato e evidenziato che invece potrebbe essere un buon modo per cominciare la nostra chiacchierata è questo imminente avvicendamento. Insomma sei dalle parti della pensione. Sì, diciamo un cambio al vertice del tutto naturale. Ho maturato i requisiti, forse mi danno la pensione, forse. E questo mi consente di alleggerire un po' gli incarichi perché sono stati anni veramente tosti dal punto di vista dell'impegno. Perché oltre alla direzione dell'associazione provinciale ho continuato a seguire quello che ho fatto da sempre cioè il settore credito con il nostro confidi regionale FIMCOST nel quale sono amministratore delegato. Ricordiamo che da vice direttore sei diventato direttore nel... Nel 2017. Nel 2017 da quel momento si sono appunto aggiunte a tutto quello che già facevi prima tutte le incombenze della direzione provinciale. Insomma diciamo che in questo momento questo avvicendamento non ci fa immaginare un Giorgio Bartolini in pantofole seduto sul divano diverso da quello di Rossini TV. No, no, non si tratta di un disimpegno. Quindi continuerò a seguire il settore del credito come amministratore delegato del nostro confidi regionale che è un confidi diciamo che ha mantenuto la sua autonomia fra i pochi devo dire perché oramai sono confluiti tutti nel confidi unico regionale. Noi continuiamo ad operare autonomamente oltre 5.000 soci di cui 1.200 attivi, cioè 1.200 stanno utilizzando le garanzie nostre. E' un'attività in questi anni che è consentito, non voglio esagerare, ma di salvare moltissime aziende che diversamente non avrebbero potuto accedere al credito. Quindi è una funzione fondamentale e una funzione che sarà fondamentale anche per i prossimi tempi quando finirà l'emergenza sanitaria, speriamo breve, quando però finiranno anche gli aiuti di Stato e quindi la garanzia del fondo centrale e le aziende dovranno ritornare a camminare con le loro gambe. Sarà una prova del 9 veramente tosta dove l'aiuto da parte di chi deve fare garanzie come i confidi sarà determinante. E oltre all'aiuto di una garanzia come i confidi c'è anche questo impegno per questa nuova attività che nasce in questo periodo che è praticamente una struttura di microcredito. Sì, siamo molto fieri di questa cosa perché è un progetto nato da noi, esattamente da Claudio Bonetti, io voglio ricordare il nostro compianto presidente di Fincost. Ricorderanno sicuramente anche i telespettatori perché l'abbiamo avuto ospite prima di Natale, tra l'altro l'anno scorso, e in una puntata che ricordo sempre con molto affetto come del resto tutte le volte che incontravo Claudio, però anche con molta intensità perché erano uscite cose importanti tra cui questo progetto. Era una sua idea che ha coltivato a lungo e con ostinazione è riuscito a mettere in piedi. Fra l'altro il progetto stava partendo proprio in autonomia da noi, da Fincost a livello regionale. Poi il nazionale si è accorto di questa cosa, l'ha ritenuta interessante ed è entrato prepotentemente dal punto di vista patrimoniale, e quindi è diventato un progetto dove il nazionale ha messo patrimonio, dove Fincost mantiene la propria quota. Questa società, che è una società di microcredito, che si chiama Cassa del microcredito S.P.A., sta ottenendo il nulla osta dalla Banca d'Italia proprio in questo momento qui, a primavera molto probabilmente comincerà ad operare, e opererà nel settore dei piccoli finanziamenti, soprattutto riservati alle start-up e alle aziende che hanno non più di 5 anni di attività, quindi aziende giovani, con un valore aggiunto di tutto raggio, quindi non solo verrà dato credito, ma verrà anche data consulenza, aiuto e supporto alle imprese, e anche un segmento privato, cioè il finanziamento al consumo. Quindi è una cosa molto interessante, anche perché le prospettive dei prossimi mesi e dei prossimi anni, purtroppo ci dicono che le banche abbandoneranno il piccolo credito perché non è conveniente per loro, e quindi ci sarà proprio una carenza in questo comparto qua, che noi andremo a coprire, siamo pronti per questo. E in questo senso ci inseriamo perfettamente con come avevamo cominciato, cioè un bel impegno da seguire, e l'alleggerimento relativo appunto all'avvicendamento che c'è ai vertici di Confesercenti Pesaro Urbino, non può che giovarti dal punto di vista proprio della possibilità di concentrarti ancora di più su questi due poli importanti, fin da una parte e la società microcredito, cassa microcredito dall'altra. Certo, dicevo poi un passaggio in tutta tranquillità, perché la nostra associazione, per quanto riguarda la gestione nostra, che è iniziata 13 anni fa, e purtroppo è iniziata in un periodo in cui il sistema associativo è andato in crisi, vi ricorderete che c'erano associazioni anche di grandi emissioni che all'improvviso sono implose, trascinandosi dietro la società di servizi, confidi, insomma anche Pesaro, se non ricordo male l'associazione più grossa in assoluto, all'improvviso è saltata, c'è stato un sistema che è andato in crisi, probabilmente perché le associazioni venivano gestite come associazioni e non come imprese, in realtà sono delle imprese a tutti gli effetti, anzi un sistema di impresa è complicato, perché c'è l'attività sindacale, ma c'è anche tutto l'aspetto organizzativo di servizi ad alto contenuto di professionalità, che vanno garantiti, ad alto contenuto informatico, che vanno dati, cioè noi se vogliamo dare supporto alle imprese prima di tutto dobbiamo essere a posto come impresa. Questo è uno di quegli aspetti che avevamo avuto modo di sottolineare nei precedenti incontri che abbiamo fatto sia con il vice direttore Alessandro Ligurgo ma soprattutto col presidente Fiorelli, proprio questo aspetto duplice, da una parte l'utente percepisce nelle associazioni di categoria, non solo in confesercenti, ma nelle associazioni di categoria appunto l'idea che sia un'associazione, una specie di patronato, una cosa un po' così che visto che io sono iscritto mi è dovuto. Dall'altra, questo è vero, però dall'altra è anche vero che per far funzionare tutto, l'hai appena detto, c'è bisogno che l'impresa sia prima tradutte a essere a posto, perfetta, in perfetta efficienza, col personale adeguato, formato, preparato e tutto il resto. Questa situazione diciamo da una parte probabilmente in passato ha creato dei conflitti perché appunto da una parte c'era l'idea un po' così da semi volontariato del concetto associativo e dall'altra invece c'era una situazione molto stringente dal punto di vista delle esigenze e delle necessità, in un mondo tra l'altro che stava cambiando, perché l'apporto dell'informatica noi ormai lo diamo per acquisito, ma è stata un'entrata progressiva che si è sempre più imposta, per esempio con la necessità di avere personale formato e mentalizzato, insomma tutto un insieme di cose che ha portato a delle difficoltà. Voi siete arrivati a risolvere o perlomeno a rimboccarvi le maniche 13 anni fa e a far ripartire un sistema che si era inceppato proprio nei suoi concetti chiave. Certo, la fotografia è proprio questa, noi abbiamo ereditato questa situazione 13 anni fa e non dimentichiamoci che qualche anno dopo abbiamo inceppato nella crisi economica, quindi abbiamo gestito due crisi, la nostra e quella economica subito dopo. Siamo usciti da questa situazione direi bene, posso dirlo tranquillamente, la struttura ha garantito i servizi, anzi diciamo che Confederacenti Pesaro è la struttura più organizzata a livello regionale, garantiamo tutti i servizi, dalla formazione ai servizi tradizionali al credito, abbiamo risanato i conti, quindi lasciamo un'associazione in perfetto equilibrio economico e finanziario, lasciamo un'associazione azienda organizzata e strutturata e sto parlando di un sistema che ha circa 70 dipendenti e 8 sedi territoriali, quindi non semplice da gestire. Questa è una bella soddisfazione? Sì, questa è una bella soddisfazione, voglio aggiungere un paio di cose che mi hanno lasciato veramente soddisfatto, la prima è un accordo sindacale perché l'eredità che abbiamo avuto si portava dietro anche a una situazione di vertenze praticamente con tutti i dipendenti, di procedure non rispettate. Due anni fa abbiamo chiuso con la rappresentanza sindacale che voglio ringraziare pubblicamente, Barbara Lucchi della CGL, Domenico Montillo della Cisle, Fabrizio Bontà della UIL, che hanno condotto in questi anni con grande realtà e grande partecipazione, probabilmente perché hanno capito che stavamo lavorando per mettere in sicurezza tutto, un grosso accordo sindacale che ha permesso di riconoscere a tutti quello che era rimasto indietro. Quindi in questo momento tutti hanno la certezza che quando interremperanno il rapporto di lavoro con Confese Argenti avranno tutto quello che in passato non hanno potuto avere. Questa è di grande soddisfazione. L'altro è un segnale di concretezza. Due anni fa abbiamo comprato la sede del provinciale. Anche questo è il segnale di un'inversione di tendenza. Quindi la mia tranquillità è anche questa. Lasciamo un'impresa in ottimo stato e l'altro aspetto in buone mani perché in questi anni Confese Argenti non ha mai stato un'associazione con un uomo solo al comando. Anzi, è stato proprio l'opposto. Dove colleghi, voglio ricordare il vice direttore che termina il suo impegno insieme a me tra pochi giorni Tiziano Pettinelli e Liliana Carnaroli che è la commercialista storica di Confese Argenti che è stata determinante in questi anni nell'affrontare procedure anche complicate di gestione delle aziende, delle varie società di servizi, della messa in sicurezza dei conti. Roberto Borgiani che si è caricato sulle spalle la riorganizzazione di tutto il tessuto regionale. Quindi un grande lavoro fatto in equip. Aggiungo un'ultima cosa, con la partecipazione e il sacrificio di tutti. Ricordo che nel 2012-13, se non ricordo male, tutti i dipendenti hanno rinunciato definitivamente alla quattordicesima mensilità. Cioè hanno lasciato per due anni consecutivi la loro retribuzione in azienda. Questo per dimostrare l'attaccamento e la condivisione di questo progetto di risanamento che è frutto proprio di un lavoro d'equipe. Tutto questo mi consente di lasciare con grande serenità a chi verrà che sarà, per quanto riguarda la direzione, l'attuale vice Alessandro Licurgo che ha anni di esperienza a livello sindacale. Su Pesaro lo conoscono tutti, lo conoscono e quindi decenni di esperienze all'interno dell'associazione, una panoramica di competenze che è il mix giusto per poi seguire a livello di direzione il tutto. Mi viene da farti una domanda provocatoria. Tutto facile per Alessandro allora? No. No, perché i mesi e gli anni che ci aspettano saranno complicati. Noi ci stiamo preparando a questo perché sappiamo che l'uscita dall'emergenza sanitaria, ricordiamo che quando è iniziata l'emergenza sanitaria c'era un po' di crisi economica, insomma le aziende non stavano benissimo. Questo ogni tanto ce lo dimentichiamo, non è che stessimo proprio benissimo. E quindi il ritorno alla normalità non sarà semplice, quindi sarà una cosa anche complessa da gestire. Ci stiamo attrezzando, prima ricordavo il credito perché sarà fondamentale quello poter aiutare le aziende perché spesso le aziende vanno in difficoltà perché mancano i soldi, concretamente. E quindi questo sarà. Ma sarà importante anche l'aiuto dal punto di vista del supporto perché cambieranno tante cose nel gestire le imprese. Il Covid ha messo a nudo anche questi aspetti qua. Non saranno più le imprese di prima, cambieranno il modo di gestire. E anche l'approccio a stare pronti all'emergenza, a cambiare rapidamente. Ecco, in questo vanno aiutate le imprese e ci sarà un grande lavoro da fare. Siamo pronti. Parlavamo con Paolo Benedetti di BCC di Banca di Pesaro proprio del fatto che fra un po' scadranno anche i termini dei pre-ammortamenti. Cioè fra un po' sarà ora di cominciare a ridargli i soldi, quelli garantiti dallo Stato. Insomma, diciamo che non c'è da aver troppa paura, però c'è da stare attenti. In tutto questo, naturalmente, abbiamo visto che da una parte abbiamo l'attività sindacale, dall'altra abbiamo l'attività aziendale. Bisogna farsi conoscere. E Confesercenti ha scelto la via migliore per farsi conoscere perché, oltre a essere già conosciuta di suo, ha ideato, ha sposato in parte, ha ideato addirittura delle attività che però non sono attività prese, catapultate da lontano, sono attività che ancora una volta mettono in risalto quelle che sono le eccellenze del territorio, mettono in risalto quelle che sono le attività più importanti, magari associate perché no, oppure che presto si associeranno. Insomma, il cerchio si chiude con questa idea, no? Sì, noi abbiamo gestito nei decenni molte manifestazioni, molti di questi eventi, alcuni dei quali sono diventati degli eventi di spicco. Mi riferisco al Brodetto che dopo 20 anni è una manifestazione a livello nazionale di grande livello, posso dire. Però noto anche che, perlomeno a livello provinciale, non ci sono associazioni che gestiscono direttamente come lo facciamo noi, eventi del genere, perché è impegnativo. Cioè sono impegni eventi che richiedono impegni finanziari notevoli, impegni logistici di attività enorme, quindi non è facile. Però il fatto di averli portati a questi livelli è sicuramente di grande soddisfazione. Fano si merita tutto questo, ovviamente perché è una città magnifica che ancora non è esplosa, ma quando esploderà diventerà sicuramente una meta turistica di tutto rispetto. E sono manifestazioni che aiutano l'economia. Cioè il Brodetto gira tutto l'anno. I ristoranti, tutti i ristoratori bravi hanno il loro bel piatto di Brodetto all'interno del menù. in qualsiasi parte d'Italia quando si parla di Brodetto viene subito in mente Fano. Ecco, questi sono risultati. Un risultato bello, raggiunto, da continuare a coltivare. Poi i nostri telespettatori conoscono tutti naturalmente Masterfish che in questo momento sta furroleggiando tra le fasi di registrazione nei ristoranti e le fasi di messa in onda sui nostri canali. E poi c'è questa novità invece di Via Flaminia. la Via Flaminia. Ecco, tutto questo anche merito del... Io ho parlato prima ai colleghi ma ci sono tanti dirigenti nostri, presidenti provinciali di zona che sono molto attivi e fra questi ovviamente c'è anche un certo Paolo Pagnini che ha un incarico del genere che ha ideato Masterfish che è stata un'idea brillantissima con la collaborazione di Rossini TV e anche questo è un veicolo enorme per fare una vetrina al territorio con la conduzione di Ottelorenzi che è un registra proprio e quindi tutti gli ingredienti. L'ultimo progetto la Via Flaminia ci tengo a citarlo perché sicuramente ha un potenziale enorme. È partito dal nostro presidente di Fano Adolfo Cuccoli che da anni sta lavorando su questo progetto. È un progetto di valorizzazione turistica della Via Flaminia quindi il territorio che va da Rimini a Roma e ha già praticamente elaborato il progetto e sarà sottoposto ai vari territori che compongono la Via Flaminia iniziando dai nostri di competenza. Cominceremo col Comune di Fano ma questo aggregherà a tutta una serie di territori un progetto di dimensioni direi sovranazionali che sicuramente nel futuro farà parlare di sé. Bellissima idea la seguiremo naturalmente con attenzione così come seguiremo con attenzione tutte le fasi del tuo pensionamento che ovviamente abbiamo già capito che sarà un pensionamento per modo di dire perché le attività da fare sono tante e soprattutto lo spirito la verve, la grinta, l'energia che abbiamo avuto modo di testare oggi anche in questa nostra chiacchierata sono intatte e ancora una grande riserva e una grande risorsa per tutti quelli che comunque hanno a che fare con questo mondo che è poi il mondo della quotidianità è il mondo delle imprese è il mondo dell'attività è il mondo dell'energia è il mondo di tutto quello che si fa quotidianamente. Sì, sì direi che l'esperienza che si fa in questo ambiente che è unico diverso da tutti gli altri è un'esperienza che poi ti permette di affrontare potrei dire qualsiasi tipo di problema e di impegno anche futuro quindi mi rivedrete. Bene, bene, bene e allora rivedremo Giorgio Bartolini sicuramente altre volte così come ci rivedremo con altri ospiti di Casa Rossini la puntata di oggi si conclude noi ringraziamo tutti per essere stati con noi vi diamo appuntamento a una prossima puntata di Casa Rossini così come vi invitiamo a rimanere sempre in visione dei programmi di Rossini TV ancora grazie a Giorgio Bartolini grazie a voi buongiorno a tutti Grazie a tutti